di una generazione. Il sogno di molti, quello di un vecchio faro su una meravigliosa isola, adesso lo Stato li dà in concessione. Sono 153, sorvegliano le nostre coste nei punti più suggestivi, indicando la rotta ai naviganti, ma presto potrebbero diventare dimore di charme, hotel romantici, rifugi per velisti. I fari, beni demaniali gestiti dalla marina militare, sono oggi sul mercato, non solo al miglior offerente, ma a chi decide di investire risorse per valorizzarli. Lo Stato rimarrà sempre proprietario, lo strumento scelto è la concessione a 50 anni, in cambio di un canone di locazione. Entro il 10 agosto sarà possibile, sul sito dell'Agenzia del Demanio, inviare proposte per la riconversione di queste strutture, per ora 11, ma si pensa di allargare la rosa a 40 in vista del bando pubblico in autunno. Siamo all'Isola del Giglio, due i fari risalenti all'Unità d'Italia, inseriti nel progetto, quello di Capella Rosso nella punta sud dell'isola e punta del Fenaio a nord. Lo stato di conservazione è molto buono, l'edificio che un tempo ospitava quattro famiglie di faristi è composto da quattro appartamenti di quattro vanni ciascuno, per un totale di 500 metri quadri. Cosa potrebbe diventare? Un albergo con una quindicina di stanze verrebbe comodamente, quindi probabilmente questo è l'utilizzo, nel caso specifico, più prestigioso. 1.500-2.000 euro a metro quadro, il costo stimato per la ristrutturazione del sito che ha già registrato diverse manifestazioni di interesse anche da parte di stranieri. Ci sono anche fondi stranieri che hanno mostrato il loro interesse sia per le strutture tipo i fari, ma anche per le strutture del demanio. Siamo nella punta nord dell'Isola del Giglio, alle mie spalle il faro di punta del Fenaio, a 40 metri sopra il livello del mare, in basso il punto di approdo. Anche se trasformato in hotelle, il faro continuerà a svolgere la sua funzione, comandato a distanza dalla marina militare. I fari non saranno mai dismessi, quello che sarà dismesso sono gli alloggi delle famiglie dei faristi.